Grazie a tutti. Siamo a Bologna, dove oggi ha partecipato al convegno organizzato dalla Società Psicoanalitica Italiana dal titolo Allucinazioni e Allucinatorio, Psicosi e Oltre. Vittorio Gallese, attualmente professore ordinario di psicobiologia e psicologia fisiologica presso l'Università degli Studi di Parma, ma ha docenze in diversi atenei europei e americani. Ha ricevuto prestigiosi premi come l'Arnold Pfeffer Prize for Neurosecoanalysis nel 2010 da parte dell'International Society for Neurosecoanalysis e poi nel 2014 il premio Musatti proprio da parte della Società Psicoanalitica Italiana. È autore di più di 200 articoli pubblicati su riviste internazionali, oltre che di libri, tra cui ricordiamo La nascita dell'intersoggettività con Massimo Amaniti e Dall'intersoggettività ai neuroni specchio, dialogo tra Daniel Stern e Vittorio Gallese del 2014. Vittorio Gallese è stato protagonista, insieme al gruppo di ricerca, all'epoca coordinato dal professor Giacomo Rizzolatti, della scoperta dei cosiddetti neuroni mirror. Però possiamo dire che questo è stato solo uno dei punti di partenza nella sua attività di ricerca, che poi si è estesa a numerosi campi d'indagine. Il professor Gallese è passato ormai molto tempo, appunto dagli inizi degli anni 90, da quella famosa scoperta, è noto che studiando la corteccia motoria dei macachi si scoprì che esistono neuroni che si attivano sia quando un'azione viene compiuta che quando viene osservata mentre è compiuta da un altro soggetto. Si può dire che fu una scoperta rivoluzionaria, dopo alcuni anni dimostrata empiricamente anche nell'uomo, e fu importante, è importante non solo per la sua rilevanza sul piano neuroscientifico, ma anche perché ha permesso di comprendere meglio alcuni aspetti del nostro funzionamento psichico, ad esempio dando rilevanza agli aspetti intersoggettivi nel nostro sviluppo. Molti studi dall'epoca sono stati fatti, tirando le somme, quali risultati ritiene che siano stati più importanti e quali quelli più entusiasmanti, anche sul piano del cambiamento epistemologico che hanno portato, e cosa è cambiato rispetto alle ipotesi iniziali? Come dicevi giustamente Anattolia, la prima fase è stata tutta concentrata allo studio di questo meccanismo nel macaco in relazione al comportamento motorio. Già in questa prima fase comunque sono state fatte delle scoperte importanti, a una di queste accennavo stamattina durante il convegno, ossia la scoperta che non solo le azioni compiute da altri quando osservate evocano l'attivazione del meccanismo, ma anche quando le conseguenze dell'azione altrui possono essere solo immaginate, questo determina l'attivazione in parte di un certo numero di neuroni con le caratteristiche del meccanismo specchio. Quindi questo estende al dominio dell'immaginazione il ruolo di questo meccanismo di risonanza o di simulazione motoria, se vuoi. Altri snodi importanti sono stati scoprire come questo meccanismo mappa un contenuto indipendentemente dal canale sensoriale, perché immediatamente dopo abbiamo scoperto come anche il suono che caratterizza un determinato tipo di azione è in grado di evocare la stessa risposta. Quindi ci troviamo di fronte a un meccanismo che permette di mappare dei contenuti similconcettuali in termini di complessità, ma è un meccanismo che vediamo emergere in una specie che precede di almeno 20 milioni di anni, in termini evolutivi, l'evoluzione del linguaggio. E quindi questo è molto interessante anche in relazione a un tema molto discusso e che è stato anche non a caso il centro del dibattito del convegno di oggi, cioè da dove nasce il simbolico, la dimensione simbolica. Altri momenti entusiasmanti sono stati quelli in cui siamo stati in grado di determinare come questo meccanismo specchio, di rispecchiamento o di simulazione non era, non fosse una prerogativa del dominio delle azioni, ma l'abbiamo ritrovato pari pari anche nel dominio delle emozioni e delle sensazioni, dapprima con gli studi sul disgusto, poi con quelli sulla risonanza visuotattile. E questo mi ha permesso di affermare, di teorizzare, come ci troviamo verosimilmente di fronte a un meccanismo di base del funzionamento del nostro cervello che caratterizza un aspetto molto importante della dimensione intersoggettiva e interpersonale. Dalle ipotesi formulate, proprio come lei accennava, sulla base della scoperta... Necidiamo del tu, no? Manteniamo, ok, va bene. Dalla scoperta di Neuronimir ha elaborato il concetto di simulazione incarnata. Potrebbe spiegarci in che cosa consiste e che ricadute ha, soprattutto sul piano delle ipotesi teoriche, rispetto ad esempio allo sviluppo psichico dalla nascita, ma ancora prima dalla vita intratorina, potremmo dire? Certo. Allora, diciamo che la simulazione incarnata è un tentativo di dare un quadro unitario, una coerenza unitaria a una serie di evidenze empiriche relative a quella varietà di meccanismi di rispecchiamento di cui parlavo prima. In pratica questo modello ci dice che noi utilizziamo meccanismi, risorse neurali che verosimilmente si sono sviluppati, evoluti per consentirci un miglior adattamento all'ambiente in termini di azioni, emozioni e sensazioni, li riusiamo anche per mapparli negli altri. Quindi la simulazione incarnata è da un lato un meccanismo, probabilmente il meccanismo più antico filogeneticamente da un lato e più diretto, che ci permette in qualche modo di entrare in risonanza con l'altro e attraverso questo meccanismo di accedere a un livello di comprensione dell'altro che non è sicuramente l'unico, che non è sicuramente quello cognitivamente più sofisticato, ma che in qualche modo, come avrebbe detto Edith Stein, ci permette di attribuire in questo atto di comprensione all'altro dei contenuti che non riusciamo ad attribuire con un approccio all'altro più mediato dalla cognizione, dal linguaggio, quindi meccanismi inferenziali di teoria della mente, quelli che per tanti anni ci hanno detto essere gli unici strumenti della relazione intersoggettiva. Una cosa che ho cercato di mettere in evidenza più recentemente è come il modello della simulazione incarnata però non si limita a declinare l'intersoggettività in termini di intercorporeità, o se si preferisce non si limita in qualche modo a mostrare come e in che modo la nozione di empatia si estrinseca a livello di meccanismi neurofisiologici, perché come accennavo prima, prima si parla di simulazione incarnata, almeno io ne parlo quando pensiamo di immaginare di fare qualcosa senza farlo, quando immaginiamo di vedere qualcosa senza effettivamente vederlo, quando gestiamo il nostro rapporto con gli oggetti, quindi se io guardo questo oggetto che è a portata di mano, mentre io lo guardo, io simulo anche l'attività motoria di raggiungimento-prensione che l'immagine di quell'oggetto manipolabile mi suscita. Quindi la visione dell'oggetto manipolabile nello spazio peripersonale evoca la simulazione dell'atto motorio che volendo potrei compiere per interagire con quell'oggetto. E da molti anni sostengo come questa simulazione motoria è parte integrante dei meccanismi che mi consentono di attribuire un significato a quell'oggetto. Quell'oggetto ha il significato che ha non solo per la forma, per le dimensioni, il colore che ha, ma anche acquisisce un significato nei limiti in cui si pone come obiettivo di una mia azione potenziale. Quindi la simulazione incarnata attivandosi alla visione di quell'oggetto contribuisce alla mia adazione di senso, un senso relazionale tipicamente, in questo caso un significato pragmatico di quell'oggetto. Poi potremmo parlare anche dello spazio, lo spazio peripersonale, tutto ciò che accade attorno al mio corpo da un punto di vista visivo, acustico o tattile quando interagisce direttamente con la superficie di una mia parte corporea, di nuovo evoca la simulazione dei gesti, dei movimenti che quegli stimoli potenzialmente potrebbero evocare. Quindi diciamo che la simulazione incarnata descrive un livello implicito del modo con cui noi ci relazioniamo col mondo, non solo col mondo dell'intersoggettività, il mondo dell'altro, ma anche col mondo degli oggetti, con il mondo dello spazio. Quindi costituisce un livello, credo, importante dei meccanismi che ci permettono di relazionarci con il mondo. Nel suo lavoro di ricerca ha da subito intuito l'importanza di ampliare sia le ipotesi teoriche che di conseguenza le applicazioni sperimentali ai disturbi psichici, a cui si è da subito interessato. Tra le altre cose appunto si è interessato allo studio del complesso rapporto se altro, ce ne stava parlando anche in termini di spazio peripersonale, spazio extrapersonale, alle alterazioni del rapporto se altro nella patologia psicotica e alla sua relazione con la percezione sensoriale degli stimoli corporei. Questo è stato anche il tema cardine del convegno di oggi e anche del suo intervento che ha trattato proprio del sé corporeo. Ci può dire qualcosa al riguardo? Allora, io mi occupo di neuroscienze ma lo faccio venendo da un retroterra medico. Questo secondo me ha delle conseguenze perché fa sì che lo studio, la ricerca neuroscientifica, l'indagine sul cervello, vede il cervello non come qualcosa di magico, come cercavo di dire oggi, non guarda al cervello come al brain in a vet, cioè il cervello nel vaso, come alcuni teorici hanno ipotizzato, quello che conta è l'algoritmo e sono le modalità di funzionamento del cervello. Il fatto che il cervello si interfacci con un corpo e che il corpo sia l'unica interfaccia tra cervello e mondo è da molti ritenuto come un fattore del tutto irrilevante. Non così per me e quindi questo retroterra che mi ha portato nelle neuroscienze provenendo dalla medicina in più, essendo neurologo, mi ha spinto naturalmente a cercare di indagare se e in che misura il modello della simulazione incarnata, le evidenze legate alla scoperta del meccanismo mirror potesse essere utilizzato per indagare alcune aree in ambito psichiatrico, in primis il tema della psicosi schizofrenica. Anche perché, come ho cercato di dire brevemente oggi, una cosa che mi ha sempre stupito da un lato e irritato da un altro era vedere come le neuroscienze cercassero di indagare il tema, ad esempio schizofrenia, declinandolo o da un punto di vista della correlazione tra genotipo e fenotipo da un lato o dall'altro cercando di studiare le ipotetiche alterazioni di meccanismi cognitivi di altissimo livello, quindi linguaggio, teoria della mente, working memory, lasciando completamente fuori dall'indagine tutto quell'enorme corpus di conoscenze che in 100 anni di psicopatologia abbiamo accumulato e che non erano mai stati o praticamente pochissimo indagati da un punto di vista empirico. Quindi quello che ho cercato di fare a Parma e a Chieti, con Carlo Maggini e a Chieti molto più a lungo, con Filippo Maria Ferro e anche con chi mi sta intervistando, cioè con la dottoressa Anatolia Salone, è stato proprio di in qualche modo cercare di capire se era possibile trovare una correlazione tra la dimensione fenomenica dell'esperienza psicotica, che noi possiamo studiare con una serie di scali, di strumenti che cercano di tradurre questa esperienza in un modo che possa essere in qualche modo studiata e quantificata e abbiamo deciso di partire con la scala dei sintomi di base di Bonn e correlare questo vissuto, questa esperienza psicotica con la performance in una serie di compiti comportamentali o con la risposta del cervello di fronte a certe sollecitazioni. Quello che è emerso da questi studi è stata una singolare congruenza tra alcuni modi di modellizzare, di teorizzare la psicosi schizofrenica e quello che noi abbiamo trovato. Ad esempio uno dei risultati più interessanti che sono emersi è relativo al tema del confine se altro. Il tema del confine se altro nella psicosi schizofrenica è problematico, c'è un'oscillazione tra un polo estremo di totale autismo, quindi il cosiddetto eremitaggio autistico della schizofrenica di cui parlava Arnaldo Ballerini e da un lato, dall'altro opposto invece la confusione con l'altro, l'altro che mi ingloba, anch'esso foriero per motivi diversi di enormi reazioni ansiose e disadattative, ossia un rapporto simbiotico, quindi autismo da un l'altro simbiosi con l'altra all'estremo opposto. Quello che abbiamo scoperto è che in pazienti all'esordio psicotico, questa è stata una grande intuizione del professor Ferro, quella cioè di portare alla nostra indagine nelle fasi iniziali di sviluppo della psicosi per in qualche modo neutralizzare il più possibile gli effetti confondenti di lunghi anni di terapia psicofarmacologica e quindi cercare di limitare al massimo gli aspetti iatrogeni della malattia. Ci ha consentito di verificare come c'è innanzitutto una correlazione tra la gravità dei sintomi e il malfunzionamento o l'ipofunzionamento di alcuni dei meccanismi di cui parlavamo prima, quindi quanto più grave è la sintomatologia psicotica nello schizofrenico all'esordio, tanto minore è l'attivazione di quei meccanismi di rispecchiamento quando ad esempio il soggetto osserva un altro soggetto essere toccato più o meno con valenza affettiva di segno positivo o negativo. L'attivazione delle aree che noi vediamo attivarsi nei soggetti sani è ridotta nei pazienti schizofrenici all'esordio e questa riduzione è tanto maggiore quanto maggiore la severità dei sintomi. Un altro dato molto interessante che è emerso da questo studio è che confrontando quello che succede nel cervello quando il mio corpo è toccato quando vedo toccare il corpo di un altro nei soggetti non schizofrenici, quindi nella popolazione di controllo non psicotica e quando il mio corpo viene toccato oltre ad attivare le aree tattili, questa intrusione nella mia dimensione corporea evoca una rausa all'affettivo testimoniato dall'attivazione della porzione posteriore dell'insula. Questa porzione posteriore dell'insula tuttavia si deattiva quando io assisto al contatto tattile affettivo sul corpo di un altro. Questo è un aspetto molto importante perché è un correlato di uno dei cardini della definizione di empatia. Empatizzare con l'altro significa sentire con l'altro ma attribuendo all'altro chiaramente l'esperienza che deriva da quella particolare stimolazione. Quindi nei soggetti sani quando viene toccato il loro corpo l'insula posteriore si attiva, quando vedono toccare il corpo altrui l'insula posteriore si deattiva, quindi viene meno una cifra in qualche modo della rausa dell'attivazione affettiva che io traggo tutte le volte che qualcuno mi tocca. Nei pazienti schizofrenici questa inattivazione dell'insula posteriore quando assistevano all'esperienza tattile altrui non c'è, tant'è che alcuni di questi pazienti se non ricordo male dovessero essere estratti dalla risonanza perché alla visione del contatto sul corpo altrui vedevano se stessi nel filmato, quindi si proiettavano in questa dimensione di cui non apprezzavano l'alterità. Chiaramente questi sono piccole nuove acquisizioni sul tema della schizofrenia, ma a mio modo di vedere sono molto importanti perché a. dimostrano che è possibile cercare di studiare una correlazione tra la dimensione fenomenico-esperienziale e l'analisi dell'attivazione del sistema cervello-corpo. due perché in qualche modo in questa indagine permettono di, non dico di avvalorare perché non è quello il compito delle neuroscienze, ma diciamo ci fanno apprezzare ancora di più la validità, l'interesse, la rilevanza, la modernità di molti contributi venuti dalla psichiatria e in particolare dalla psicopatologia fenomenologica che è totalmente assente dal mondo psichiatrico anglosassone e che è sempre meno al centro della formazione dei nuovi psichiatri. Quindi diciamo che le neuroscienze da questo punto di vista ci aiutano anche a capire come e quanto importante sia questo filone della psichiatria che tra l'altro in Italia ha avuto e continuano ad avere dei contributi di assoluto rilievo. Professor Gallese, non è assolutamente frequente assistere a quello che lei è riuscito a fare mirabilmente, come ci sta mostrando anche in questa descrizione della sua attività di ricerca, cioè l'apertura di un neuroscienziato ad altre discipline. quanto le ha giovato questo approccio interdisciplinare, nello specifico cosa ha attinto dalla conoscenza e dal dialogo con la teoria psicoanalitica, anche viceversa, cioè cosa invece crede che le neuroscienze possano apportare alla psicoanalisi? Allora ogni disciplina ha la propria tradizione, in parte la propria epistemologia, sicuramente il proprio linguaggio, il proprio vocabolario. Spesso quando si parla di neuroscienze in relazione ad altre discipline, questo evoca delle reazioni di difesa in queste altre discipline, in parte ingiustificate, in parte forse parzialmente giustificate dalla percezione che si ha dall'esterno delle neuroscienze che spesso colpevolmente si propongono come, con un eccesso di quello che io chiamo neuro-hybris, come la risposta ultimativa a tutte le questioni rimaste fin qui irrisolte. Questo non è chiaramente il caso. Le neuroscienze aggiungono un livello di descrizione secondo me ineludibile, per fare luce sulla specificità dell'umano, perché qui in questo ambito direi ci conviene concentrarci sull'umano, le neuroscienze dal mio punto di vista sono necessarie ma non sufficienti. Sono necessarie ma non sufficienti nella misura in cui noi siamo quelli che siamo, perché è vero che il nostro cervello funziona in un certo modo, ma questo cervello funziona in quel modo, perché è vincolato da un corpo che si è evoluto in un certo modo e non in un altro, perché si è evoluto in un mondo fisico che aveva certe caratteristiche. Ieri abbiamo parlato ripetutamente di descrizioni dal basso o dall'alto, approcci top down o bottom up. Io mi chiedo e vi chiedo che senso ha parlare di alto basso in un mondo che non conosce la forza di gravità. Quindi vediamo come anche le concettualizzazioni che appaiano più astratte trovano sempre e comunque una radice corporea. Allora questa radice corporea la troviamo nella psicanalisi dall'origine e la ritroviamo in un certo modo di declinare le neuroscienze. Le neuroscienze si declinano al plurale, proprio perché tutti condividiamo più o meno l'uso degli stessi strumenti, ma si possono usare risonanze magnetiche, elettroencefalogramma, stimolazione magnetica transcranica per rispondere a domande molto diverse. Queste domande molto diverse sono a loro volta dipendenti dalla cornice teorica all'interno della quale più o meno consapevolmente ci poniamo. E' bene esserne consapevoli perché in questo modo si evitano molti passi falsi. Che cosa può dare la psicoanalisi a chi si occupa di neuroscienze cognitive come faccio io, a chi si occupa soprattutto usa le neuroscienze per comprendere la relazione interpersonale? Diciamo che è un contributo dal mio punto di vista ineludibile perché nell'ambito delle discipline che a vario titolo hanno cercato di fare luce sull'umano, la psicoanalisi ha per prima messo in luce quanto di sommerso ci sia alla base del nostro comportamento e del nostro pensiero esplicito. Questa dimensione è condivisa oggi per certi versi dalle neuroscienze quando parlano di dimensione implicita, del conoscere, quando parlano di inconscio non rimosso o inconscio non dinamico. Quindi ci sono dei punti di contatto se non altro per un punto fondamentale. Le cose non sono mai come ci appaiono o come vorremmo che ci apparissero e da questo punto di vista quindi per chi si occupa di intersoggettività il confronto, il dialogo, le sollecitazioni che provengono dal corpus dottrinale della psicoanalisi è molto interessante, nel mio caso specifico è stato un enorme arricchimento. Poi è necessario studiare Freud per essere neuroscienzati? Non arriverei a dire tanto. Dico se il nostro oggetto di indagine usando le neuroscienze è il tema della soggettività e dell'intersoggettività credo che non si possa prescindere da una frequentazione di questo ambito disciplinare. Che cosa possono offrire le neuroscienze alla psicoanalisi? Beh direi che oggi le neuroscienze in qualche modo chiudono il cerchio, cioè permettono allo psicoanalista in qualche modo di confrontarsi con il punto di partenza. Non dobbiamo dimenticare che Freud è un neurologo, scrive a lungo sul cervello, scrive delle cose estremamente interessanti, ad esempio sul tema delle afasie, con il progetto scommette sulla possibilità di declinare la psiche in termini di circuiti neuronali, si accorge quasi subito come la scienza che ha a disposizione non ha gli strumenti sufficientemente raffinati che possono consentire di mettere alla prova empirica questa scommessa o questa ipotesi e quindi dice che dobbiamo operare utilizzando metafore, un giorno forse saremo in grado di tradurre queste metafore, questo linguaggio in termini biologici. Non sta a me dire se questo giorno è arrivato. Credo che per qualsiasi persona che decida di occuparsi di quello che definiamo come la dimensione psichica dell'umano sia utile interrogarsi sul funzionamento di una parte molto importante del nostro corpo che è quella del cervello e quindi credo che dal dialogo tra neuroscienza e psicanalisi possa derivare, possa nascere un arricchimento culturale per entrambe le discipline e forse anche con il tempo la possibilità di intravedere dei percorsi di ricerca comuni.